È una grandissima giornata per Arquata e per le Marche. Questa azienda che parte come aveva promesso la famiglia della Valle prima della fine dell'anno, con persone che trovano occupazione nell'area di Arquata, è un'azienda di grandissima qualità, una sintesi di grandi radici marchigiani che investono nel loro territorio e nel momento più difficile danno il segnale più forte il lavoro. Il lavoro è la prima ricostruzione dove ripartire per le famiglie e per le persone, per noi è una grande soddisfazione, speriamo che come spesso detto della Valle questo esempio venga imitato e replicato perché significa ricostruire nelle fondamenta la speranza più importante, pochi giorni da Natale il segnale più bello che potessimo ricevere è l'incoraggiamento per tutto quello che c'è ancora da fare per la ricostruzione delle Marche. Io direi che il privato con l'aiuto del pubblico perché da soli non ci saremmo riusciti ha fatto un buon lavoro, però direi che c'è stata una cooperazione forte, quindi da soli non avremmo potuto fare senza l'aiuto delle autorità locali, di quelle regionali, quindi direi che questo forse è un esempio di come quando si vogliono fare le cose insieme in fretta si possono fare.